Bonus spesa per i geni di prima necessità. Sì, questa non è la carta di sparmio spesa o la carta dedicata a te. Stiamo parlando di un bonus anti-inflazione trimestrale, mese di ottobre, novembre e dicembre. Questo cosa ti permetterà? Ti permetterà di poter andare a fare la spesa, acquistare dei prodotti contenuti all'interno di un paniere di prodotti calmierati che sono frutto di un accordo tra l'ossate italiano e la grande distribuzione. Quindi cosa implicherà? Implicherà che tu andando ad acquistare questi prodotti troverai in automatico un prezzo scontato. Ma questo non è frutto di una promozione del centro commerciale, ma è frutto di un accordo tra l'ossate italiano e la GDO. E' per questo che è un bonus. Quindi spetta a tutti, non è più discriminate. discriminante come la carta di sparmio spesa. Se avete delle domande sul bonus anti-inflazione mese di ottobre, novembre e dicembre 2023 scrivetemi. Il 10 settembre seguitemi perché vi indicherò quali prodotti saranno contenuti all'interno di questo accordo.